Gli Stati Uniti hanno scelto, con una vittoria piena che ha conquistato sin ad ora 279 elettori contro 223 della sfidante democratica Kamala Harris, il candidato repubblicano Donald Trump sarà il 47esimo presidente USA, un ritorno alla Casa Bianca a quattro anni di distanza rivendicato dal Tycoon come la più grande vittoria di sempre, un mandato potente senza precedenti. Di fronte ai sostenitori in Florida, nel suo discorso di vittoria, Trump ha ringraziato gli elettori, con lui l'alleato e finanziatore, l'imprenditore Elon Musk, e ha tratteggiato il futuro dell'America, che ha definito più grande, migliore, più audace, più ricco, più sicuro e più forte di quanto non sia mai stato prima, aiuteremo il nostro paese a guarire e ha annunciato di risolvere la questione dei confini, lavoreremo duramente per riprenderci tutto. Parole che suonano come una rivendicazione, mentre la delusione investe il Partito Democratico, che vede di nuovo svanire il sogno della prima presidente donna. Kamala Harris non ha parlato in pubblico, né ha chiamato Trump per riconoscere la sconfitta. Lo farà, anticipa la CNN. Stato dopo Stato, la certificazione finale del risultato avverrà il prossimo 6 gennaio, in seduta comune di Camera e Senato. Due coincidenze. Sarà preseduta dall'ex sfidante Kamala Harris in quanto vicepresidente e avverrà esattamente quattro anni dopo il giorno dell'assalto, il 6 gennaio 2021, a Capitol Hill.